Bella a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video vlog. Quest'oggi voglio regalarvi una nuova lista, una lista che non avevo fino a questo momento mai portato sul canale, una lista con cui all'interno finalmente della nuova banal di list che è arrivata di gennaio sono riuscito ad arrivare all'ultimo torneo del Games Time al primo posto. Innanzitutto ho fatto una piccola scaletta qui con le indicazioni per raggiungere il posto del torneo. Noi giochiamo spesso qui, è l'unico posto all'interno della Calabria dove si può veramente giocare a Speed Duel in maniera competitiva, dove potete conoscere anche noi, quindi il mio consiglio è di venire a giocare a Speed Duel perché sono convinto che vi divertirete un sacco. Quindi è tra l'altro il posto più grande, più bello e con un personale davvero gentilissimo, quindi il mio consiglio è di venire a giocare se ne avete la possibilità o se potete al Games Time di La Mezza Eterme. Per quanto riguarda invece la decklist ho deciso di giocare a un deck diverso dal solito come vi dicevo, e nello specifico il deck Koala. La skill che ho utilizzato è una skill classica del deck Koala che si utilizzava anche col metekin precedente che è Entroterra Rilassante. Si consente una volta per turno di spostare un deck, un mostro Koala o Kanguro che controlliamo in posizione di difesa. E tra le altre cose il mostro potrà attaccare in posizione di difesa e per il calcolo del danno applicheremo la sua difesa anziché l'attacco. Questo calza a pennello come effetto con i nostri mostri. Innanzitutto il 3x di Kangaroo Mortale. Quindi quando attacchiamo non solo spostiamo in difesa e attacca dalla difesa, ma si calcolerà il 1.7, quindi ancora più forte. Tra l'altro ha un effetto veramente devastante, tant'è che soprattutto dopo aver attivato tantissime carte trappola come per esempio il wall, che cosa capitava? Che me lo attaccavano coperto e io distruggevo il loro mostro perché ovviamente anche ad essere un saber drag aveva sempre comunque un attacco inferiore al 1.7 di Kangaroo. Quindi quando ce l'attaccano con un mostro con un attacco inferiore alla difesa del kangaroo stesso si distrugge. Per effetto del kangaroo stesso. Altro 3x fondamentale, il koala marino. Questo è importante poiché scomba con Kangaroo Mortale. Per quale motivo? Poiché una volta che lo evochiamo, tiriamo la skill, giriamo in difesa, quando attaccheremo attaccheremo con 1.6, non sarà quindi più 100 d'attacco, applichiamo il suo effetto quando controlliamo quindi un mostro, praticamente tipo bestia, quindi i nostri mostri sono tutti di questo attributo, e riduciamo a 0, quindi il finale end face di questo turno, l'attacco dell'avversario, quindi il mostro dell'avversario, quindi praticamente riusciamo di conseguenza ad attacchere noi sui mostri, anche se sono mostri con ingente attacco. Ultimo mostro, il nostro koala, classica carta da deck burn. Grazie proprio a questo tipo di skill card, riusciremo ad attaccare mentre è in difesa, quindi sarà un 1.800. Ma grazie al suo effetto flip, riusciremo anche a burnare il nostro avversario, quindi ad infliggere danni da effetto, che ci aiuteranno soprattutto a poter tentare di agevolare le nostre aspettative di vittoria. In due per, per quanto riguarda il reparto magia, la carta offerta al condannato, soprattutto con il discorso di Floodgate e di Book of Moon, quindi o giochiamo l'uno o giochiamo l'altro, mi sembrava la carta più adeguata da dover utilizzare fondamentalmente, anche per distruggere carte come Jinzo, che causano un grosso danno al deck, ma non alla nostra versione, perché nel mio build ho preferito giocare, continuare a giocare, in tre per la carta libero della luna, quindi per coprire e mostrire l'avversario. Sto notando che tantissimi giocano invece Floodgate, ma rinunciano a Book of Moon, io personalmente preferisco sfruttare anche tante magie, perché ho molta veramente paura di Jinzo, anche se è una carta limitata. Che cosa vi consiglio di fare? Io ho giocato nella mia versione Teschio di Zoma, Teschio di Zoma perché col Book riesco quindi a risettarmelo, se me lo vogliono distruggere, posso fare tantissimi tipi di giocate, però quando generalmente altri giocano la carta ruota incubo, che io personalmente non gioco in questa build, a quel punto vi consiglio di non giocare i libri della luna, ma di giocare Floodgate, quindi di sostituire i libri con Floodgate e di giocare ruota incubo, se invece volete giocarlo come me, vi consiglio più la carta Teschio di Zoma, ma si possono fare più giocate, anche se non riusciamo a infliggere ogni volta 500 al nostro avversario, perché la razza è uguale. Fondamentalmente se giochiamo Teschio di Zoma puntiamo a infliggere direttamente danno al nostro avversario, solo che copriremo temporaneamente i mostri dell'avversario con Book of Moon, con Floodgate li copriamo per sempre, quindi a quel punto funge meglio la carta ruota incubo. Nella nostra build sicuramente è molto più versatile le Teschio di Zoma, dobbiamo scegliere tra l'una e l'altra, io ho preferito questa opzione. Poi, due muro di disturbo, carta fortissima, nulla da dire, tra l'altro ultimamente anche inaspettata, poiché è sparita a metà game all'improvviso. In ultimo, la carta trappola più forte del mazzo, almeno in questo mazzo, che è Scudo con Catena. Ci consente di pomparare l'attacco di 500 dei nostri mostri, in più, quando praticamente ci attaccano, attacchiamo, il mostro guadagna che cosa? Guadagna praticamente difesa pari all'attacco, però solamente durante il calcolo dei danni, quindi immaginatevi per esempio un Koala, 1800 più 1100 più altri 500, cioè una roba veramente bestiale in ogni senso, non solo per l'attributo dei mostri. Che altro dire? Spero che la lista vi sia piaciuta, mi raccomando provatela, per quanto riguarda il mio bottino di guerra del torneo, ho preso a Game's Time, sempre di la mezza, che se potete venite ci divertiremo assieme, ho preso queste sleeves protettive per i prossimi tornei, in modo tale anche da non giocare come potete vedere spesso con le carte senza bustina. Che altro dire? Vi consiglio di venire a Game's Time e se la lista vi è piaciuta di mettere like al video, iscrizione al canale e dopo, come dico sempre, fate quel bip che vi pare.